ciao creatura io sono Ecco di Splendente benvenuta o bentornata nel regno di Cosai ASMR sapori dal mondo e il deguito non so se si dice così ma mi fa ridere allora non devo spostare l'inquadratura va bene perché nel video di Halloween ho spostato l'inquadratura ci ho messo 10 minuti per guardare l'inquadratura giro pagina sposto il foglio perché relax respira relax perdona te stesso perdona i tuoi errori non so se abbiamo mai guardato insieme questa settimana di sapori dal mondo soprattutto perché ci sono delle novità speciali dia dello smuerto mi piace dirlo così con questa enfasi allora sono le cose messicane messicane non so cosa sto inquadrando perché non sto vedendo cosa sto inquadrando quindi spero che questo video sia rilassante allora c'è il chili beans fagioli rossi salsa piccante boni poi petto di pollo impanato 4,49 euro 1,09 euro petto di pollo impanato con salsa di peperoncino peperoncino 4,49 euro non so perché faccio così oggi va così tortiglia di frumento con cereali 6 tortiglia a 1,49 euro poi tortiglia gusto classico a 1,29 euro poi il chili con carne a 2,49 euro bullet pork bono spalla di suino marinata con peperoncino piccante a 4,99 euro chissà se è visual trigger fare così non so perché non vedo questo inquadrato taco dinner kit contiene 12 tortiglia di mais salsa e miscela aromatica 2,49 euro poi peperoncini piccanti cialappino a 0,99 mexican style burger madò fa voglia farcito con carne bovina salsa a base di pomodoro cipolle formaggio fuso a fette 1,99 euro formaggio a fette con peperoncino a panino buono 2,79 euro tortiglia roll che ho comprato perché sono buonissime quelle al formaggio snack al mais gusto formaggio pomodoro a 0,99 euro guacamole salsa guacamole a 1,99 euro non è tanto buona quella la salsa quella che si compra già fatta l'ho provata di diverse marche e non mi piace invece quella che mi faccio a casa è buonissima è perché c'è l'avvocato fresco trio nacho dip 2,49 euro ci sono 3 salse però non riesco a leggere allora guacamole poi sour cream quindi il gusto pannacida salsa c'è solo scritto salsa se è salsa di pomodoro forse piccante si dai strano che non ci mettano qualcosa di piccante nelle cose messicane e poi nuggets di pollo panati con ripieno piccante e salsa dip ma che buoni 2,99 euro pizza in stile messicano con carne di manzo jalapegno e peperoni e mais leggera 2,49 euro che è una novità mexican style snack box che c'è anche la versione ho visto che c'era la versione anche orientale nelle settimane orientali e quella americana anche se non falli con uova da carne ma come che con uova mexican allora allora c'è scritto red riesco a leggere poco perchè sto perdendo la visita ma red pepper dip credo sia la salsa piccante eh non riesco a leggere ma riesco a leggere cheese snack qualcosa cosa forse a paniere o no non lo so corn corn snack qualcosa con la shalapigno vabbè alla fine è sempre 3,79 euro e poi ci sono gli snack al formaggio che sono cream cheese shalapigno with chili dip pepper 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 jack cheese ball jack credo sia una j with chili dip e poi nacho cheese cheese bean snack non lo so se mi fanno voglia ma li assaggiare comunque a 2 ore 19 e poi c'è lo speciale ci sono dei morti eh con cereali croccanti questi fanno voglia 1,49 euro li ho visti ma non li ho presi perchè non faccio in tempo a fare colazione e praticamente mangio solo a cena non faccio in tempo a fare niente perchè sono sempre a lavoro con farina di frumenti integrale e al gusto cannella devono essere buoni sembrano i giurros quelli che fanno vedere di solito nei film tipo mi viene in mente la serie eh my name is earl dove c'era spesso non mi ricordo il personaggio che si mangiava i giurros vabbè c'era un personaggio che si mangiava i giurros una puntata forse era solo una puntata però vabbè tipo mi ricordo che facevano una fila infinita per mangiare i giurros e poi dopo succedeva qualcosa non mi ricordo comunque c'è un flash ti sta puntata sempre si era quella serie di però dettagli poi mini figure di cioccolato a forma di teschio 1,49 euro la birra con la tequila buonissima proprio a 5 euro non lo so dico per scazzare non lo so se vuole 5,99 euro tequila con cannella a 7,99 euro allora a me la cannella non piaceva poi mi sono mangiato i biscotti di natale di Lidl e poi ce li ha identici anche Aldi quelli nella confezione grande nella scatola trasparente grande ce ne sono un sacco dentro e da quel momento sono cannella e cocco e da quel momento mi piace la cannella non so cosa sia successo ma da quel momento mi piace la cannella la magia del cocco eh la magia del cocco la magia del cocco ma sono già finiti eh se sapevo così andavo più piano poi vediamo cos'altro c'è ma ma cosa c'era sto settimana qua perchè era quella di Halloween niente di che alla fine per esempio questo set di elastici a spirale per capelli io me li ero comprati non a Lidl però fatti così e eh perchè tutti consigliavano invece fanno strappare i capelli non comprateli fanno strappare i capelli la parrucchiera mi ha detto su perchè fanno strappare i capelli effettivamente era vero vedo che hanno degli set di adesivi qua tutto un tante cose tante cose set con territori e questi sono utili facciamo un po' di paper sound che io amo stramo 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 a lavoro faccio sempre paper sound inconsciamente ed è super smr questi li abbiamo visti nella scorsa puntata cani che abbaiano e altri suoni molesti concentrati su di me concentrati su di me creatura allora qui c'è gusto e benessere ci sono anche questi prodotti così di soia e cimici e poi eh si perchè quando penso alla soia mi vengono a mettere cimici ah c'erano delle altre cose di alunco non le avevo viste che belle comunque posso dire una cosa? le piante di aloe in top le semi di aloe voglio dire le piante del Lidl top cioè veramente io amo ogni volta che vado al Lidl mi comprerei tutte le piante quando avrò casa mia mi comprerò tutte le piante del Lidl ogni volta che ci andrò diventerà una serra tanto sto in campagna quando avrò uno stipendio fisso poterò via tutti i miei soldi in piante in alberi esprimi un desiderio che bella è sta casa delle bambole ma è bellissima ma io voglio spendere tutti i miei soldi in piante no lo so che volevi che dicessi casa delle bambole ma non sarà così cucina per bambini è giustamente per bambini non per bambine allora anche sui costumi c'era un errore in battitura c'era una di troppo ma perché non stanno già mettendo i giochi di Natale i regali di Natale e qua vedi tutti i regali di Natale che bella questa ce l'avevamo e noi non la troviamo era bellissima questa non era fatta così però io giocavo sempre c'era una pista tipo così delle macchinine io ci giocavo sempre era bellissima allora Blade di Minecraft è orribile cioè è bello in realtà se mi piacesse quanti sono belli i Blade qualsiasi disegno hanno i cosidi cos'è di Lego questo? che belli peccato che non ci giochi a Minecraft però c'è guarda quanti regali di Natale guarda e finiamo con c'è un suono orribile adesso finisco il video ovviamente mi metto a fare il video ti hanno trappanato battuto urlato ciao suono di sottofondo non so se lo sento solo io spero di sì orribile o forse è solo nella mia testa potrebbe essere vabbè dopo tutto questo momento delirante io ti auguro questo video è fuori controllo sarà fuori controllo il titolo ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura creatura